buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad una signora di lisbona portogallo che mi chiede dottore sto perdendo capelli ho 42 anni cosa posso fare con l'ipnosi dcs vera professionale io le ho consigliato di scaricarsi un audio molto potente dal titolo no calvizie no alopecia areata che risolverà il suo problema se le approvate tutte con zero risultati basta seguire le istruzioni molto facili la prova di un nonno alla prova di un idiota la prova di un pigro come funziona la caduta dei capelli che ti rimangono tra tra le mani nella doccia quando ti lavi la spazzola oppure mentre di pettini funziona che l'emozione negativa che alberga nel tuo subcosciente agisce su tutto il tuo corpo compreso i capelli per cui se tu sei anche se non te ne rendi conto stressato o stressato in questo caso hai paura sei depressa sei infelice sei intrappolata in un rapporto e che non ti soddisfa non sa neanche il perché con la logica bene significa che il tuo subcosciente sta soffrendo per eliminare questa sofferenza utilizza l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola senza se e senza ma e risolverai il tuo problema annale io ho aiutato personalmente online quando operavo su skype in tutto il mondo adesso sospeso perché voglio dedicarmi a progetti più importanti per aiutare più gente possibile finché sono vivo molte donne che perdevano i capelli per lo stress e per il passato negativo naturalmente ci sono state molte donne che con un solo audio mp3 dicesse come non calvizie dal titolo non calvizie non alopecia areata hanno risolto il loro problema altre donne hanno anche usufruito di sessione online di prodotti dicesse con il sottoscritto ed altre ancora hanno richiesto l'audio mp3 dicesse personalizzato solo per loro unico esclusivo d'accordo però ti posso garantire che centinaia e centinaia di persone nel mondo hanno risolto il loro problema anche con un solo audio mp3 dicesse per cui solo a te la scelta se rimanere come sei e rischiare di diventare calva completamente oppure invertire la rotta con l'ipnosi dicesse vera professionale fatta solo di parole però parole semplici pulite trasparenti senza nessun effetto collaterale però parole create ad arte ad hoc che risolveranno il tuo problema fammi tutte le domande del caso di rispondere gratis compatibilmente vedete i miei impegni e visita il mio sito internet www.iprolegiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dicesse il dottor claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che ti può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dicesse del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico mio amica mia e alla prossima del dottor claudio saracino ciao ciao